Sburocratizzare la macchina amministrativa, zerare i debiti dei cittadini e delle imprese nei confronti della regione, avviare una sanatoria edilizia per sbloccare cave e miniere. Sono alcuni dei punti salienti del programma del candidato alla presidenza della regione Sicilia, Lillo Massimiliano Musso, che ha ufficializzato la sua candidatura in un incontro a Caltanissetta. L'avvocato originario di Ravanusa ha le idee chiare e, nei suoi intenti, la nuova legislatura dovrà essere un anno zero per la Sicilia. Il candidato di Forza del Popolo mira a rilanciare l'economia interna, magari anche creando una moneta complementare, aspetto non vietato dai trattati europei, dando la possibilità di scambiare beni e servizi ai siciliani. Sul turismo, secondo il candidato Musso, bisogna puntare sì su un turismo di massa, ma rispettoso dei contesti abitativi e che sia anche accessibile ai disabili. Ai nostri microfoni Musso ha parlato anche di infrastrutture e sanità. Sentiamo le sue dichiarazioni. Il programma di Forza del Popolo per le infrastrutture non può prevedere nient'altro che di mettere già in atto quello che c'è. È inutile promettere aeroporti o seconde linee ferroviarie se non siamo in grado di garantire la sicurezza delle strade e l'efficienza dei trasporti pubblici. Il presidente della regione siciliana, peraltro, può stabilire delle convenzioni per andare a superare quella difficoltà di tipo territoriale che impedisce la cosiddetta continuità territoriale. E allora, ad esempio, si possono prevedere tutta una serie di tariffe per i residenti, soprattutto per gli studenti universitari, con le compagnie aeree dove vi sono delle convenzioni con dei prezzi politici bloccati. L'efficienza del servizio ferroviario, se ci si mette di impegno, si possono organizzare delle tratte ben funzionanti che mettono insieme il treno con il pullman e poi con anche delle tratte che continuino invece con delle automobili. Noi, sul piano della salute e della sanità, vogliamo mettere in campo una grande opera di prevenzione e di educazione sanitaria, a partire dall'alimentazione e da un uso non scriteriato dei farmaci. Perché è chiaro che oggi i farmaci, nella grande maggioranza dei casi, la mia non è una generalizzazione, sono la causa di patologie che richiedono ulteriori farmaci. E quindi non è normale che sessantenni si ritrovino a imbottirsi di farmaci dalla mattina alla sera e prendere pillole come se la chimica fosse la risposta, quando non si va mai alla causa. Quindi la Sicilia è chiamata, dal punto di vista sanitario, ad anticipare la malattia e a debellare quel fattore che porta alla malattia.